Elisa Rigaudo sul palco dell'Idea Awards, ospite d'onore, premiata per una grande carriera, intanto sempre un'emozione avere dei riconoscimenti così. Sì, sicuramente essere premiata sempre per quello che uno ha potuto fare nella vita sportiva fa sempre piacere. È stato un doppio riconoscimento il fatto che questa sera mi abbiano voluto dare quella medaglia d'argento che al mondiale otto anni fa ho conquistato. Ecco, l'hai detto già questa sera, appunto, mi riferisco a quella medaglia. Che emozione è? Un po' strana, no? Dopo tanti anni. Sì, peccato che avvenga dopo così tanti anni, sono passate addirittura otto, però quello che di positivo c'è è che comunque nella vita i casi di doping o comunque queste situazioni qua poi tanto vengono scoperte e quindi diciamo che giustizia poi viene fatta. Adesso che da qualche anno non gareggi più, sei una mamma a tempo pieno, se ti guardi indietro cosa vedi? Cosa pensi di quello che hai fatto lo più sportivamente della tua carriera? Beh, sicuramente mi ritengo una fortunata perché ho potuto fare per tanti anni per me il lavoro più bello che ci sia, ma soprattutto mi porto dentro quelle grandi emozioni che ho provato e adesso dall'altra parte cerco di trasmettere quello che lo sport è bello e positivo nei bambini. Grazie.